bello a tutti ragazzi sono Alex, io sono anch'io e oggi ripetiamo con Destiny l'ultima volta l'ultima volta ho giocato io per tutto l'episodio questa volta giocherà Alena probabilmente e vado nelle pocce su Venere pocce d'acqua come fanno esserci le pocce d'acqua su Venere? pocce d'acqua ok io prenderei la mia la mia moto superfaiga magari se non inquadri le pocce d'acqua ma la mia moto faiga ma ce l'ho già andato io qua si è vero che le usciti dieci erano tutti tutti i Vex ma stai combattendo lui per te livello 12 ma non preoccuparti io gli darei una mano ma non mi dico ma dammi una mano ma poverino si diamo una mano cos'è? ho visto una cosa? oh cazzo oddio c'è un ex che c'era no c'ero io c'era io si scampa tanto si 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 direi di mettere il carno alla fusione io direi di salire ah non c'è più nessuno ma io direi di lasciare il faro a lui che è visto che è a livello 31 ma è la tua missione che sta facendo un livello aspetta no ma devo salire ma qual è la tua missione? quale? la tua missione è quella? ma cos'è questo? vandalo? ma che cazzo? ma quanto in secolo? come si sa? ma basta e butti anche i tergestini questo è dopo i videlli che devono pulire ma oh c'è un cos'è all'11 oh davvero cos'è sta roba? è la sua arma? cazzo allora allora aspetta io ho ho un teorema del spurre no c'è un altro arancio c'è un altro arancio mai sparare su delle cose cos'è un magazzino merce di Amazon ma tu vuole cagli fuori è il magazzino di Amazon ecco da dove vengono le cose che ordiniamo su Amazon zona collettiva di Easter qua si sparano tutti i tramici vabbè io salterei giù proprio alla walk bar no quella cosa lì esplode quale? quella lì che è la restante no ma che cazzo vuol dire? ma che cazzo vuol dire? ma che cazzo vuol dire? è davvero? è un buggy? nooo no io lo piaccio tanto ma io lo piaccio tanto ma tra l'altro stanno già combattendo contro qualcuno ma secondo me sono i Vex che combattono contro i Vex eh i Vandali eh i Vandali ehm hai ragione e io invece mi asso tutti cioè non faccio differenze proprio eh no tu non sei razzista come voi eh va bene eh ma c'era una granata da questo punto una granata una granata che grazie un tiro di me si è granata proprio shit waa adesso c'erano tutti con me ehm certo adesso si allevano tutti con me tutti con me ma si che ti ha fatto a fuori? no meglio di no meglio di no oh una cosa nuova però mi sa che fa chiare vale no però tu ti do tre e con l'oro che ho io eh ma tu hai tutto tipo uno uno due tre vai 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 oh ma questi vetri saranno anche brutti ma forti cioè ti ammazza ti ammazza qualunque cosa qua dentro c'è un mezzo di e Vandali e Vandali YAH 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 mi leccai mi carica no adesso li..l'fotto con un'estrema mossa di agilità no 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 e va bene dai Dio allora dimmelo solo Dio e basta adesso ci sono delle scariche cosa posso scappare da parte ah eccolo là Dio e vabbè dio ma insomma un po' di caldo un po' di caldo ma all'occhio ancora meno no sta all'occhio e non farti vedere dall'occhio ma non si sposta adesso BOOM cioè ancora vengo e vabbè si chiama boss e vabbè ma staccamo occhio staccamo e staccamo e vabbè secondo me non mi ha messo l'occhio oh cavolo ci hai incazzato oh merda è proprio qua è proprio qua non volevo banzucarci scusami scusami ti becca ti becca no non mi sembra solo oh cazzo ce l'ho qua mi hai già amato da qui eh no oh 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 farlo solo 10 48 minuti 48 forti minuti non ho ancora 9 minuti occhio oh 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 metti la mano metti la mano lì metti la mano non c'ho la mano ti chiedo uno sparo eh cosa dovrei estrae l'archivio l'archivio perché l'erba ma io ho questa brutta sensazione tra l'altro sembra quello di Codeliocco non so se avete mai visto il cartone ragazzi non ho mai visto Codeliocco è bellissimo lo guardavo sempre da piccolo ma ditemi che ho progetto l'estintore no è un cartello dell'estintore l'hai fatto esplodere tu evidentemente perché ti è ricomparsa la vita? perché sono un pro ah no 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 ma c'è un motivo un'altra scrivania che mi servirà ti è veramente nel deposito questa cosa è un'altra cosa da mettere la mano ma io non c'ho la mano sono e devi andare là benvenuto dottor C inserire il codice di sicurezza preg io mi chiamo al Gisius lui si chiama Alex non farci caso andiamo a quel termine va bene il nostro posto è stuprofacente più grande degli archivi dell'antica no a non volare qua perché mi schiava il dottor C si è il dottor L eh occhio che non so se c'è un culo no ok ho controllato che bravo cos'è questo adesso ti immagini se si aprono tante cabine sperimentali ed escono fuori tanti mostri sperimentali e ti fanno un culo sperimentale sperimentale no allora io lo apro poi mi nascondo non so dove grazie dottor Shin comincia il confronto dei campioni di nuclei mentali Vex che gentile si che gentile adesso mi ammazzano non lo so mi ammazzano dottor Shin è stata rilevata un'intrusione avvio protocollo 19 che cazzo è 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 intrusione e arriva a Dio in persona a giustiziarmi caduti no caduti caduti ferma i caduti caduti fermatevi c'è lo stop eccole lì divante mamma mia ok ah proprio 4 proprio 4 qui sono io poi dici c'è ricaricato un pugno da questi bastanti ma che sono un coglione allora stiletti no spostati ok ricarica vita no spostati a destra spostati a destra ok fai ricaricare vita è buono ma è l'altro vista ce l'hai intorno no ce l'hai intorno dove va fanculo stiletto e mezza non saltare giù da questa cosa no sono giù ah sì 3 oh mi piace oh è così a far tanto bene vandolo che è andato a un mazzo no 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 mazzi nessuno eh quindi stiamo andando su a porto un po' di eccolo lì eccolo lì eccolo lì vai cosa oh level il level ha esistato sul numero sì 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 non mi ricordavo cioè non mi ricordavo ma non veniva quello sono ancora convinto che tu sia a livello dolce avremo online trasmissione eh devono avere un servitore che ti vuole l'energia no no ripara cioè tu ti infici anche il draulico non farlo non darla in fondo no 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 però è debole no però c'è il di riparte che ti sta sparando l'ho visto l'ho visto ci mancava che non lo vedevo ma va a fare un cuore tu ma che cazzo vandolo furtivo ma tu sei arrivato è perchè è in vicina io sono andato a vedere ma adesso sono bloccato non so mai cosa vola 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 cioè ce la puoi fare no non ce la puoi fare no non 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 tu ti fatti ah lei ha 4 dimensioni e adesso vengono cambiare e farlo sfogli un guoco ahahah passate da li oggi la musica drammatica che cosa sta succedendo mi manca ancora una ah quello ve lo tengo pronto un coppio un vandolo di qualcosa un vandolo che adesso muore aspetta se il pro lo faccio scompare ma che cacca wow lo kbro però stai per morire. Ma io non lo so perchè il ca... Corri, 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 scivola, 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 scivola. Perchè scivola? Perchè eviti i colpi se scivoli. Ok. E' logico. Il gran barone distoccavo, non è morto. E' morto fa? E' morto. No, ha risposta di te. Ma che si sposta? Spostati ma che si sposta? Perché non si sposta? Perchè morto? Perchè morto? E' morto anche il barone con la... Il barone? Il barone ciao prima che muore. Ma non è morto. Eh vabbè barone ma fanno il... Guardi ma adesso riesco a misparmi. Oh voilà. E ora? E ora è morto. C'è lo scudo al bastardo. Mi sono pazucchi o mi sono... Oh no 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 no. Oh in faccia. In faccia gliel'ho tirato. E' a me. Mi senti respirando assunti? No. Oh si cadeva nell'acqua. Ti uccidevo. Proprio uccidevo. Togli devo un'arma a casa da Destiny e ce l'ho tirato. Eh... E' morto anche qui. Il barone? E' morto. 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 Fini di missione. Ok ragazzi. Quando i video vi piaciuto lasciate. Non farlo. Non farlo. Non farlo. Se il video vi piaciuto lasciate un commento. A suggerire mi piace. Iscrivetevi. Nel prossimo video. Io adesso dovrò montarmi. Uno. Quindi... Bella ragazzi. 4 e mettiamo il castello Dove è finito il castello?